La torre è girone, i due marò accusati di aver ucciso due pescatori in Italia. Il Tribunale internazionale del mare di Hamburgo derude le speranze di un rientro immediato in Italia. Dove sarà esaminata la richiesta italiana di misure cautelari. La cosa è di aver ucciso due pescatori, due marò bloccati in Italia potrebbe esaltare ancora a settembre. Quotidianamente questo governo sta... Io direi che il risultato è un risultato utile. Nel senso che... Un abbraccio caloroso e affettuoso a due... Noi stiamo seguendo la vicenda dei due... Due marò con grande attenzione... Con grande attenzione...